chiamese ma io non credo va bene non vedete si deve scendere no non ho messo tutto tutto da solo guarda ok ok guarda hai fatto scendere da sotto Cioè Apri me subito, Massi, apri me subito Apri me subito Ah, a diavolo, ecco Vai Prendo di nuovo, a diavolo Attenzione, andai via Vai No, dimmi scelta Dimmi scelta Non scelta quella Vediamo Certo, so farlo Apri me subito Alba, che bu sale Poi sono Poi dimmi scelta Kamu dei oi, non sei noi Adi Adi Poi Che Adi Guarda che faccio un problematiche Guarda quanto sofferto Guarda quanto sofferto Hai parlato Massimo Perché parli? c'è non fare lo se che fai fai per Dio la mano ha bussato la mano ha bussato la penna ancora è un olvoro e da apri la palotta non c'è anche un gas sotto vai ma che scendilo 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 è meglio ma se prima allora pregatemi a me ma se oh ma si oh 57 secondi perchè le gemmino tutte? no perchè ha sfuggito la meta oh uno due qui vabbè io ho un pezzettino di spazio ma è una cosa ma la bambina nasce lascia a me no hai cominciato la capa no perchè? perchè la bambina dai tu caga a giocare no tu caga come scoppare il viso che tarda fra sei galuto sei galuto sei galuto sei galuto sei galuto io sto da bello come caccia ti ho permettre come caccia no non ho pregato la bambina no ne ho pregato la bambina i nere come caccia la bambina me forse mi ha spabando lì oh Oh, fai la scena, ok? Ok? Ma per dimmi il coso, fai cazzare. Che cazzo? Come fai? Come siamo noi a scena? Ma poi, dai, non devi andare dietro, fai cazzo. Oh, carai, ah, ah. Ok, guarda, stai facendo giro, giro bello. Oh, la. scendiamoci da meglio no, dei piani gemme ma si perché no? si, volevo va bene, vai vedi, guarda vedi che si è scarso vedi, no Giorgio Romani io mi chiamo Giorgio Romani io Giorgio Romani ormai a me non lo dico perché? perché sono gicappato sono gicappato a me non lo dico come si chiama sul gioco a questo ok, ma siamo niente io no la valla la valla facendo la valla vai, vai, vai facendo ok adesso no, no mi sono bella non ti video che è la valla gli manda la no, ho capito quindi abbiamo perso? no ok perfetto la porta è aperta è con la giro ma questa non mi metto la valla sai? no gli vengono al giro ma no qua ok vedemolo qui allora io vedo eh no ti hai dito poco via dai 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 ok io vedo qui lo vediamo qui e qui a qui è un po' pubblico la passi dopo ma la serie ok la prima mi fa prendere gemme guarda io so facciamo aperto quella fa digappato cos'è digappato perchè chiudiguerla? perchè? no, no se trago comunque possiamo andare avanti perchè guarda ma vi faccio vedere guarda 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 perchè non possiamo passare guarda guarda Dio Borcone guarda 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 vai insieme, fermo, no, è morto, ma lui è morto, no, non è sempre io, ma va, se mori, hai sbagliato te, no, ma schiazza, e abbiamo finito, va, se moriamo, no, vabbè, però è fisico, però non di cascava, perché se tu caschi, perfino, è un ascio di video, allora cosa fai agli pago o cosa? No, non avrai arrivato, va, va, niente, perché è buona a far profitto, vai, ma frasso che sarà, dai, ce ne abbiamo fatta, se mi chiamo, frasso o io, come è, so che è fatta, un minuto e trenta a durare a sta cosa, non c'è più, che cazzo, non c'è più, non c'è più, forza, mi chiamo qua, porca croia, è lì, si lascia, vuoi usare qui? Non so io, no, so io, guarda, vai, guarda, come sono il Mario, se sei buona salita, va, 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 no, ma io parlo, come cazzo fai a farire, come cazzo fai? farà, ma devi metto una mano, eeeh, e mo? ma lo perso, ma non può, no, mamma mia, che ti do parlo, io, io, non acqua, ho giocato con mio amico, ha perso sempre, beh, non ho comportato una mia, può essere, va, 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 parlo sia guanna, atoms come se e' raricata è formata, ma sei, ma sei, ma sei, ma sei, ma sei, però, fai senti, però senti sin recinato. no, ma sei, ma sei, ma sai Alors, sei kata pensando, ma sei, ma sei. quindi un oluyor fa whic solle, cosa è facts, ma sei! visto, puisi è trovato qui mi amico, vai! non c'è l'acqua io sono l'acqua non c'è l'unica bene no Poi! Poi! Metti me ne vado in corso! No, io ho il peccato, 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 io ho il peccato. Non ce ne voglio dire. Vai! Non ce ne voglio dire. No, ma sì. Perché? Perché avrà, avrà l'uiglia. Sì. Vai! No, almeno tre minuti poi ci vediamo. Sì, come è il massimo? No, no. Ma cosa è la prima? Cosa è la prima? Allora, ma come c'è la cosa che accadì? Il peccato! Il peccato! Se qui c'è il peccato, non parte il gioco! Non è più facile, ma non è. Vai, l'apri. Ok. Vai. Non ci vediamo. Non ci vediamo. Non, 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 non. a chi è molto male grazie vai sempre a l'euro a l'euro a l'euro sempre a l'euro a l'euro non posso più aveva sembrere di corso ma guillo in modo ma che non nemmeno ma la sua allora non 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 tu non sei che sucesso mi ragazzi prendo un po' di me che non è un po' di me che non è un po' di me che non è un po' di me non sei che sucesso non sei che sucesso ma come qua fa ma come un ring croce e la campagna e la metta e non ti piace perché è un po' di me fa no tu non fai così se lo subito e la fai ha Leo se lo subito va bravo se lo subito e la fai ha ho le � no non fa come la terra noi me la prendo in due in due a sé a me allora ma guarda parte scherzi vai su subito ok vai si subito si subito easy 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 tu adesso lo prendiamo insieme ahahah non cambio la carota che stavo in due io vai lascia 1 2 no si 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 Perciò che la partita di calcio Vai 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 Dono A te Io lo prendo No No Lo prendi prima io Perché io Lo prendo prima io qua Poi prendo e vado a sinistra Poi tu scendi e vai qua Ti fanno ora ma capito Però tu hai capito L'importante è quello Capito? E come te lo spiego Vai Ma Guardate che faccia lì che è bene Eh Vai Tra 40 secondi dobbiamo arrivare Là Mamma mia Mamma mia Mamma mia Spediti Vai C'è Il L'ossi L'ossi L'ottrice Vabbè Via In 18 secondi abbiamo fatto il pezzo C'è questo pezzo C'è un vento L'amassi buono Ma vai 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 Vedi No No Mi fa veloce Non so se devi Perché aspetti Non devi saltare Tu devi andare Non so se devi saltare Ma provo Vai come prima Come prima Vai Vai Lascia La patata Questa è l'unica La mogolese Ora io Usiamo L'unica è mogolese Dai Dai Non è compatta Dai Dai Guarda Dai 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 Bravissimo Adesso Adesso La sento sbagliata E' questa No Che è un più difficile Guarda No 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 Che fa Vabbè Un agosto Guarda Cacola Vado Vado Meglio Tu intanto Preparate Ah Perché Appena L'arrivo Te Vai Uno Due Subbio Mannaccia Agabagagata Quando hai Tu prima La testa Ah Lo sai perché C'è 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 No perché Tu stai Giù Eh Giù è Possibile Andrò Per forza Prima Io Eh Vabbè Qua C'è 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 Ma Fidate De me Fammi Una Dico Io Una Vabbè C'è De me Eh Quanto C'è Non è giusto Cioè sono tipo 10 minuti e stanno a fare questa cosa Con il giallo Vai, fa il calcio Vai, fa il calcio Vai, fa il calcio Eccà Vai No No Fra, tu adesso devi fare la magia Tu devi fare la magia Ok Oddio cosa ho fatto? Ma siamo morti Ferma Ferma No Cazzo Cazzo Quasi Capito come? Eh Come ti ho detto io Vedi che non me l'ho mal sentito Però come le dico io e le cose Eh Eh Cazzo Quasi Sei morti Vam Ci vediamo Ah Abbiamo sentito Bravo Bravissimo Sembra Puerta No 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 Ok Fra Fra Due Subito Fra Sì va Credici Vai Ho vedo mai come personaggio Fra vai Bego No Che avevamo fatto Che avevamo fatto No Ero arrivato Che avevamo fatto Ero arrivato io Ero arrivato io Ma fammi alfamburo Che avevamo fatto Che avevamo fatto Che avevamo fatto Ci rivolgiamo Con acro belaccio Maia grazie Maia grazie Con acro belaccio Con acro belaccio Ero Vero Davrano prenderle un po' la farà dai ce la faremo non 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 mai non me lo fai un cazzo ma adesso la vera no 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 ma fino alla fine ci proviamo no no bravo dai no tranquillo ok vai scusate ragazzi non parliamo ma non sto conciutati eh voglio che la ok parlavo dopo e si muove un livello si si la fra il segno si 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 mai adesso che cazzo che mamma mia allora che famo? questo buono no si si tu c'è tutta la stata quella cosa ma si brava 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 si bravo 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 ma tu vabbè tranquillo è il primo ma si non capisco è un è un raga ma non parliamo perchè io ho comodo concienza perchè sto livello mi ha preso oddio mi ha preso regalo comunque scaricato lo soggiorno da pc acqua a fuoco mamma mia troppo bella io sono incazzati come i maiali però no è bello è bello la grafica è bella la grafica è bella la grafica è bella ma si ce l'ho fatto tutto vogliamo anche forse il live questo si questo si ma è bella la grafica è bella ma si che ho fatto non so se l'hai visto ma si ma si guarda che abbiamo finito se non sbaglio abbiamo finito si io si ma io in 32 secondi regà non vorrei sentire non vorrei sentire gente che adesso dice eh ma sicuramente l'avete fatto con il joystick non abbiamo giochi guarda abbiamo tastiera guarda guarda non stiamo aprire per cura guarda non abbiamo niente oh si no no vedi 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 è un po' piccolo poi la gente forse è un po' però la gente che ci vive la gente che ci vive la gente che ci vive la città la città la città perché io non capisco un cazzo di gioia vero 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 no ma allora famosa una cosa tu dovresti saltare quella da qua eh ma noi la vabbè tranquilli ma so non è no forse è divina dici dici dillazione mi ha capato la mia mi ha capato la mia mi ha capato la mia vai buttala perfetto ok no 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 è giusto ok vai 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 mi sono castrato no no peccato è nè mi ha capato o né è è lì vorrei sempre vabbè 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 vabbè